Quali sono le prime impressioni del mondo V e del team? La prima volta che ho arrivato mi sento che sono a casa, persone sono molto amici e positivi, mi piace tutto. Tutto ciò che ho visto, mi piace molto. È stata una prima esperienza molto positiva, tutte le persone sono amichevoli, quindi sono molto contenta. Cosa ti aspetti da questo campionato? Cosa ti aspetti di questa settimana? Con il coach Luca spero che siamo arrivati così vicino, spero che metteremo tutto insieme, lavoreremo molto, rimaneremo insieme e probabilmente combatteremo per la prima volta. Sicuramente lavorando sodo insieme all'allenatore Luca riusciremo a raggiungere dei buoni obiettivi e magari anche a conquistare dei risultati importanti.